Ci sono anche i sindaci di Castellabate, Costabile Spinelli e Ascea, Pietro D'Angiolillo, oltre al loro collega di Camerota, Mario Scarpitta, tra gli indagati per il cattivo funzionamento dei quattro depuratori posti sotto sequestro mercoledì scorso dalla Guardia Costiera di Agropoli e quella di Palinuro, su disposizione della Procura di Vallo della Lucania. I provvedimenti giudiziari sono stati emessi in questi ultimi giorni, ma gli accertamenti sono stati effettuati tra il 2016 e il 2017 ed hanno consentito di riscontrare una serie di illeciti perpetrati in violazione delle norme che disciplinano gli scarichi dei reflui fognari e l'assenza di autorizzazione allo scarico e anche l'inadeguatezza strutturale e funzionale degli impianti. I sigili sono stati apposti all'impianto di Catona, ad Ascea, ai due di Ogliastro, di Castellabate e a quello di Licusati, a Camerota. Complessivamente sono nove le persone indagate. Oltre ai tre sindaci sono finiti nel mirino della giustizia i funzionari comunali responsabili del settore, due di Camerota, uno di Ascea e due di Castellabate, di cui uno in pensione. Sotto inchiesta anche l'ex primo cittadino di Camerota, Antonio Romano. Ai quattro impianti sono stati apposti i sigilli, ma continuano a funzionare e a garantire un'adeguata depurazione. Secondo gli inquirenti, i depuratori, all'epoca delle indagini, non erano idoni a garantire il rispetto dei limiti tabellari previsti dalla normativa vigente per il refluo immesso nelle matrici ambientali. Intanto, dall'altra parte del litorale cilentano, si attende l'esito delle indagini della Procura di Lago Negro sui lavori di dragaggio al porto di Policastro e sulla mancata esposizione del divieto di balniazione sulla spiaggia in largo dei 300 a Sapri. La prima risale a circa due anni fa, la seconda all'estate scorsa.